Pronti, inizia. Allora, salve a tutti, ben ritrovati, sono molto felice di essere quest'oggi con voi per il quarto appuntamento della nostra rassegna itinerante filosoficamente. Quest'oggi è la volta di una nostra collega docente nelle scuole superiori, prima però di ascoltarla, di ascoltare Dolores Merico, che quest'oggi ci parlerà di un tema molto importante, civiltà, responsabilità ed impegno. Cedo volentieri la parola al presidente del corso di laurea, il professore Igor Agostini, per un breve saluto. A presto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il nostro vicepresidente, il professor Fabio Ciracì. Ringrazio la nostra redatrice Dolores Merico e ringrazio tutti i presenti. Sono al tempo stesso felice e onorato di introdurre la professoressa Merico, che è professoressa presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Magna, ma è stata anche, alcuni anni addietro, mia collega di dottorato presso il dottorato in etica e antropologia del professor Mario Signore. Quindi mi fa particolarmente piacere essere qui e poterle dare la parola. Io voglio soltanto esprimere la riconoscenza nei confronti di tutti voi che partecipate a questo evento, che per noi è molto importante, che ci accomuna come colleghi, professori dell'università, professori di liceo, e accomuna tanti studenti, fra di loro colleghi anche, spettatori di queste bellissime esperienze e degli tensi dibattiti che poi seguono. Quindi tutta la mia gratitudine e soprattutto un augurio di buon lavoro anche oggi. Grazie al professore Igor Agostino, al nostro presidente del corso di laurea. L'occasione è lieta in maniera particolare, come ricordava il presidente, perché abbiamo il privilegio di avere una classe di docenti veramente eccellente, che si è formata con noi, nei nostri dottorati, nella nostra università, e questo vuol dire un tessuto, una comunità intellettuale diffusa, che è un grosso vantaggio sia per la scuola che per l'università, ovviamente, e questa è una collaborazione della nostra collaborazione. Mi permetto di ringraziare, di cogliere l'occasione per ringraziare Alberto Nutricati per l'importante articolo che ha voluto scrivere, che ha dedicato a noi sul paginone culturale della Gazzetta del Mezzogiorno, sempre molto generoso, e anche per questo spazio che ci viene dato, uno spazio che è dato poi alla fine alla filosofia, a cui Alberto Nutricati è legato per formazione, e quindi lo ringrazio nuovamente per la sua attenzione, per essersi dedicato nuovamente al nostro corso di laurea. Cedo volentieri la parola alla mia collega e amica Dolores Meripo per il suo interessantissimo seminario. Prego Dolores, a te. Grazie, grazie, buonasera, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, un saluto affettuoso ovviamente al professore Ciraci, al professore Agostini, insomma, in memoria dei vecchi trascorsi. Mi accingo a iniziare l'escursus breve che proporrò oggi, muovendo proprio dal concetto di civiltà, del resto il tema della rassegna è uomo e civiltà, e quindi muoverò dal concetto di civiltà per esaminare in essi con il concetto di cittadinanza, cercando di mostrare come si è basato sui concetti di identità, di relazione, di partecipazione, e approderò alla esigenza forse di un nuovo paradigma che implichi la corresponsabilità e l'impegno collettivo. Il termine civiltà deriva dal latino civiltas, è derivato di civis, e quindi cittadino. Come ho detto, muoverò dall'analisi del concetto di cittadinanza. La prima declinazione del concetto di cittadinanza è rintracciabile certamente nella Grecia Antica attraverso l'essenza di istituzioni come la polis e il suo modello di convivenza, la gorà e la partecipazione, la boulet, un consiglio rappresentativo della comunità, e il modo di sostenere le proprie opinioni esercitando la dialettica, l'oratoria e soprattutto il pensiero critico, logico e persuasivo. Per Aristotele, nel primo libro dell'Etica Nicomaichea, la finalità comune, sia della morale che della politica, nel senso della organizzazione istituzionale della città, e il bene supremo per l'individuo. Quindi il perno dell'argomentazione aristotelica è l'affermazione dell'identità fra il bene dell'individuo e il bene della città. Si può dire che Aristotele apre lo spazio di significato proprio del concetto di cittadinanza, rendendo possibile indagare all'interno di questo concetto sia la dimensione giuridica che la dimensione etica. Per Aristotele l'uomo è un essere politico, portato naturalmente a vivere in società, e realizza se stesso agendo praticamente secondo virtù fra altri uomini, e in modo condiviso ovviamente organizzato in forma istituzionale. Quindi la polis è il luogo in cui la condizione umana può rivelarsi eticamente in relazione agli altri e anche al mondo con responsabilità e impegno. Ed è al tempo stesso il prodotto della vita morale dell'uomo, tesa al perseguimento dell'eudemonia, cioè della felicità. La comunità della polis è una comunità legata da un principio spirituale che non è qualcosa di dato, bensì una esigenza etica da realizzare e da custodire. Farò adesso un brevissimo escurso storico, perdonatemi la brevità, ma vorrei parlare di altro, e quindi lo tratterò soltanto incidentalmente di questo. Mentre quindi in Grecia era assegnato un ruolo fondamentale alla partecipazione civica, nel mondo romano l'individuo è conosciuto e riconosciuto come soggetto giuridico, detentore di diritti e di doveri nei confronti dello Stato. La concezione della cittadinanza cambia però nel periodo medievale nell'ambito appunto di una cultura per la quale la cittadinanza si basa su una distribuzione gerarchica delle parti. In particolare con Bartolo di Sassoferrato, un pensatore politico e giuridico del Tardo Medioevo, troviamo rappresentato lo status civitatis come patto fra l'individuo e la comunità politica e quindi una condizione giuridica assolutamente convenzionale. Però nello Stato assoluto, pensiamo a Jean Baudet, ma anche a Thomas Hobbes, ci sono i sudditi e non i cittadini. La prospettiva dunque cambia radicalmente con l'illuminismo. laddove sono i cittadini a fare la città. Per dirla con Rousseau, solo nella comunità politica che abbia per fondamento un equo contratto sociale si può parlare correttamente di cittadinanza. Durante la rivoluzione francese, i cittadini del moderno Stato di diritto sono tenuti ad obbedire alle leggi, avendo contribuito alla loro formulazione e quindi sono uguali almeno per quello che concerne la volontà generale, nel senso che ciascuno di loro ha un uguale potere di contribuire alla formazione di tale volontà. Proprio con la rivoluzione francese si è registrato in Europa il passaggio da una società del passato piena di privilegi e di diseguaglianze ad una nuova epoca dei diritti e della libertà in cui i parametri che definiscono il discorso della cittadinanza sono lo Stato, la nazione, la libertà, l'uguaglianza. La concezione democratica di cittadinanza trova poi la sua più alta espressione nel filosofo tedesco Immanuel Kant per la pace perpetua ma non solo. Per Kant la cittadinanza è condizione di uguaglianza e di autonomia. Gli individui sono liberi ed uguali nella comune soggezione alla legge tutelati nei loro diritti in quanto parte di una comunità politica alla quale tutti contrattualmente consegnano la loro libertà esterna per riprenderla di nuovo subito come membri di un corpo comune. Ecco, è su questo concetto di comune che poi mi soffermerò fra poco. Cittadinanza per Kant è un rapporto con la Civitas che coinvolge tutti i soggetti in quanto titolari di quella libertà tutelata dall'ordine giuridico. Ma essa rappresenta anche un vincolo che stringe intorno alla città solo quei soggetti che godono di una partecipazione attiva e piena alla vita dello Stato forti della loro indipendenza della loro proprietà e soprattutto della padronanza di sé. Si può dunque dire che dal mondo antico all'età contemporanea tutte le forme di cittadinanza abbiano avuto delle caratteristiche comuni. La cittadinanza risulta essere convenzionale costituzionale, normativa caratterizzata da uguaglianza tra i membri della comunità politica e soprattutto espressione di libertà positiva ossia permette di partecipare riflessivamente e attivamente alla gestione della cosa pubblica. Come condizione giuridica cittadinanza indica infatti è la condizione di chi fa parte di uno Stato esprimendo la relazione cioè il vincolo tra lo Stato e l'individuo una condizione giuridica che investe l'intera personalità di un individuo titolare come sappiamo di una serie di diritti e di doveri. Una delle conquiste della storia è stata l'affermazione del principio secondo il quale la cittadinanza non è soltanto la passiva soggezione allo Stato ma è un insieme di attive posizioni sociali che rendono l'individuo soggetto e non solo oggetto all'interno dell'ordine statuale. Se si guarda ad una prospettiva psicologica la cittadinanza evoca l'esperienza di identità e di solidarietà che una persona sperimenta nella vita pubblica o collettiva. Ecco, è sul concetto di identità che vorrei soffermarmi. Questo concetto di identità è basilare perché è possibile individuare se stessi soltanto nella dimensione della relazione della relazione col mondo perché l'altro gli altri sono l'elemento costitutivo della mia della nostra identità relazione che io noi abbiamo sempre all'interno di un contesto quindi io sono all'interno di un contesto io appartengo ad una comunità che sia la famiglia che sia la scuola che sia il gruppo di amici che sia la squadra di calcetto che sia il mio comune o la mia regione o la mia nazione quindi appartengo ad una comunità con la quale io ho degli elementi in comune per esempio una stessa matrice culturale e sociale e questa comunità inevitabilmente rappresenta parte di me e il contesto in cui io sono cresciuto di cui io ho rispettato oppure ho contestato le regole ma volente o nolente ne ho assorbito gli usi ne ho assorbito la cultura il modo di approcciarmi alla realtà oppure li ho anche rigettati ma comunque ne sono stato condizionato e allora se noi siamo sempre in un contesto ciò che ci circonda persone cose sono parte di noi della nostra storia del nostro modo di essere e di vivere allora noi costitutivamente siamo cittadini noi siamo qui ed ora cittadini di questo presente volenti o nolenti noi lo siamo e allora oltre ad esserlo occorre sentirsi cittadini sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte del resto la virtù politica appartiene a tutti potremmo affermare con riferimento al protagora di Platone in particolare diciamo al mito di Prometeo in cui Zeus fa distribuire a tutti gli uomini la virtù politica cioè i principi ordinatori delle comunità umane come rispetto reciproco e giustizia appunto quindi ho cercato di argomentare in precedenza come il soggetto definisca la sua identità il rapporto con la civitas e nel rapporto con la comunità politica che il soggetto avanza pretese e nel rapporto con la comunità politica che il soggetto riconosce doveri esprime aspettative difende prerogative in questa direzione va anche la lettura sociologica del concetto di cittadinanza che ci fornisce il filosofo e sociologo Pierpaolo Donati cittadinanza che a suo dire oltre ad istituto giuridico è relazione sociale in cui i soggetti mettono in gioco ciò che essi hanno in comune comunis ciò che è di tutti nel senso di interessarsi di ciò che è comune di ciò che coinvolge comunis nel senso di sapere per esempio come in quali luoghi e quali persone prendono decisioni che ci riguardano e che riguardano il contesto in cui viviamo ecco allora che la cittadinanza come relazione sociale indica qualcosa che è sovrafunzionale ossia che ha una pluralità potenzialmente indefinita di possibilità funzionali implicando dimensioni di realtà psicologiche culturali economiche sociali e giuridiche dunque gli uomini diventano e rimangono cittadini solo nell'esercizio della responsabilità ecco il secondo elemento del titolo del tema che tratterò riguardo alla responsabilità non posso non citare i modelli classici per cui Weber Max Weber o Hans Jonas per Max Weber l'etica della responsabilità si esprime nella vita sociale dove le conseguenze possibili delle proprie azioni vanno accuratamente valutate in base al principio dell'agire razionale rispetto allo scopo e quindi bisogna valutare sempre le conseguenze dell'agire Hans Jonas sostiene invece la necessità di applicare il principio di responsabilità ad ogni gesto dell'uomo che deve prendere in considerazione le conseguenze future delle sue scelte e dei suoi atti ecco a mio avviso però e mi permetto un piccolo inciso non si tratta di una responsabilità che gli individui possano scegliere o meno di assumere guardando in prospettiva i risvolti futuri beh adesso no io credo che ci sia la necessità di una fondazione forte per cui il senso di responsabilità dovrebbe guidare a monte le scelte degli uomini in quanto intrinseco in quanto connaturato al concetto stesso di uomo di cittadino proprio perché egli è parte di una comunità intendo dire che questo diciamo senso di responsabilità dovrebbe scaturire necessariamente proprio secondo vincolo di necessità dal proprio essere uomo fra e con gli altri uomini allora perché così non è vi si potrebbe obiettare questo secondo me per dirla molto semplicisticamente e chiudo questa riflessione puramente personale l'uomo ha accantonato l'altra parte di sé quella quella buona perché quelli che Hobbes definisce i postulati certissimi intorno alla natura umana l'egoismo naturale per cui mai si proverebbe amore verso gli altri coesistono con i buoni sentimenti con lo slancio di aiuto disinteressato verso gli altri perché beh perché in noi coesistono eros e tanatos riflettiamoci il senso di responsabilità per tornare al mio discorso discende dall'avere senso civico cioè dall'essere consapevoli che del fatto che facciamo parte di una comunità che siamo in stretta correlazione con gli altri esseri umani e in qualche modo dipendiamo anche da loro mai come in questo periodo credo che insomma ce ne stiamo rendendo conto per questo avere senso civico significa rispettare gli altri rispettare il gruppo la comunità e sentirci parte integrante di essa sentire il senso di responsabilità implicato proprio dal senso di appartenenza senso civico è innanzitutto il rispetto delle regole in generale e della costituzione sicuramente soprattutto sentirsi solidali nel rispetto dell'ambiente nel rispetto della natura come anche nei confronti di chi ha bisogno di aiuto avere senso civico non è soltanto rispettare le regole e rispettare diciamo se stessi anche rispettare se stessi e gli altri proprio in senso generale diciamo a tutto tondo il senso civico si manifesta ovviamente rispettando la cosa pubblica dalla panchina dove ci si siede alla pensilina dell'autobus ai monumenti alle strade perché chi arriva dopo di noi ovviamente possa farne uso allo stesso modo e con lo stesso decoro e quindi sarà il senso di responsabilità quel prendersi cura quell'avere a cuore ciò che ci circonda proprio la strada che ci porterà all'impegno un impegno quindi un partecipare un prendere parte alla vita della comunità proprio perché si è parte di una comunità a tal proposito la filosofa Anna Arendt insiste sul concetto di cittadinanza attiva ovvero sul valore e sull'importanza dell'impegno civico e della deliberazione collettiva riguardo a tutte le questioni che concernono la comunità politica i tratti essenziali secondo l'Arendt della condizione umana non si esauriscono nell'essere nel mondo e nell'essere con gli altri ma si completano nell'essere con gli altri nella città a proposito dell'impegno civico vorrei ricordare una cosa la costituzione italiana è nuclea i tanti diritti dei cittadini bene chiedo e i doveri quali sono? i principali doveri dei cittadini sono quelli enucleati dall'articolo 2 della costituzione che dopo aver sancito che la repubblica riconosce e garantisce diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali o che si svolge la sua personalità aggiunge che ai cittadini a loro volta è richiesto l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale sicuramente insomma la costituzione redatta nel 1947 entro in vigore nel 48 quindi c'è anche un periodo storico per cui insomma poi nell'ambito della costituzione questi come dire doveri inderogabili diciamo consistono soprattutto nell'esercizio del diritto di voto articolo 48 piuttosto che lo svolgimento del lavoro piuttosto che il pagamento delle tasse e altro ma vorrei però sottolineare che questo principio di solidarietà politica cioè questi doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale diciamo è un concetto che poi è stato reso dinamico dalla storia e quindi è polisemico questa categoria di di doveri questi doveri inderogabili sono elemento portante peraltro anche dello stato sociale in quanto spingono sostanzialmente l'individuo gli individui ad avere la responsabilità di una comunità e quindi ad uscire fuori da visioni meramente individualistiche quindi ciò che la pratica della cittadinanza comporta è dunque una comune responsabilità nei confronti della identità e della continuità di una particolare comunità politica quindi al di là dell'accezione strettamente giuridica quella di cittadinanza è ancora e tanto anche un'idea strategicamente importante faccio un po' il punto e mi avvio alla conclusione trattando il terzo elemento portante della mia relazione cioè l'accezione diciamo dell'impegno dunque vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé significa attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni nel riconoscimento ovviamente di diritti e di doveri uguali per tutti non possiamo non renderci conto della necessità di stabilire regole condivise questo però implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell'ascolto sull'attenzione al punto di vista degli altri e anche alla considerazione delle differenze vivere le prime esperienze di cittadinanza significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato rispettoso degli altri rispettoso della natura vivere le prime esperienze di cittadinanza implica cioè il dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e questo comporta l'impegnarsi ad elaborare idee e anche a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita a partire dalla quotidianità un impegno che appunto all'interno di una comunità implica senso di responsabilità implica il fare qualcosa per gli altri e si vedi bene che l'impegno per la comunità e l'impegno per ciò che riguarda il vivere insieme diretto non soltanto alle istituzioni quindi inteso come impegno in politica ma anche nell'associazionismo anche nel volontariato nella religione in senso ampio impegno per dei valori ecco mi preme fare proprio un passaggio sull'importanza dei valori è fondamentale fondamentale soprattutto in questo momento ma sempre lo è stato credo avere dei punti di riferimento dei valori per i quali valga la pena impegnarsi è importante appassionarsi alle cose ed è proprio questo che consente di ampliare il senso della propria esistenza di darle spessore se si aderisce consapevolmente a dei valori condivisi allora è possibile che si mettano in atto degli atteggiamenti cooperativi e anche collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile e questo credo ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno in una società dell'apparenza della superficialità della velocità dell'effimero abbiamo bisogno di avere qualcosa in cui credere di essere motivati verso qualcosa di sentirci attori protagonisti della nostra esistenza perché noi abbiamo un valore importantissimo la definizione di cittadinanza attiva come valore dunque e come obiettivo diventa tangibile se parte dalla persona cioè dal cittadino attivo che trova diciamo in una nuova speranza di benessere nel suo vissuto quotidiano le possibili risposte al disagio e alle incertezze della sua esistenza e del suo futuro oggi all'interno di una costellazione post nazionale per dirla con Habermas la globalizzazione ha certamente esteso la sua influenza non soltanto sull'omogeneità della popolazione e dunque sulla base pre-politica dell'integrazione dei cittadini ma anche sulla stessa autonomia capacità di azione e sostanza democratica dello Stato le ragioni di questa crisi della cittadinanza sarebbero legate a limiti strutturali al prevalere dell'economico all'essere diventata un puro titolo di accesso diciamo a diritti un trade off di interessi strumentali alla perdita di elementi comunitari di consenso sui valori ultimi e quindi se consideriamo questo cioè se consideriamo la perdita proprio di questi elementi comunitari di consenso sui valori ultimi non possiamo non avvertire l'esigenza nella contemporaneità di riformulare i valori fondamentali della cittadinanza un progetto per la società è anzitutto una visione sociale cioè un modo di concepire le relazioni sociali si parla di superare il modello conflittuale oggi imperante nella competizione in ogni settore della famiglia alla scuola al lavoro per proporne uno nuovo che sia capace di instaurare nuovi rapporti fra gli uomini la competizione effettivamente rende i rapporti umani improntati alla diffidenza all'ostilità con poche possibilità diciamo di fondarli invece sull'autenticità per poter trasformare questo modello culturale a mio avviso è necessario intervenire nei diversi ambiti in cui si articola una cultura e non ultimo nella formazione nei processi educativi e quindi nella famiglia e nella scuola puntando alla formazione di personalità mature capaci di armonizzare il benessere proprio con quello degli altri di formare degli spiriti cooperativi dove l'altro sia considerato un socio impegnato nella comune impresa di costruire una società in cui i rapporti umani siano improntati ad un'etica della solidarietà e della responsabilità nei confronti degli altri e nei confronti del mondo che ci circonda al di là della importantissima introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica l'attenzione alla formazione globale dei ragazzi come cittadini è stato sempre il traguardo e l'obiettivo più alto della scuola in generale di tutti i docenti in generale scuola che rimane sempre lo spazio di incontro in cui si insegna ai ragazzi un modello di ascolto e di rispetto e lasciatemelo dire questa diciamo l'attenzione proprio alla formazione dei ragazzi come cittadini è anche obiettivo cardine dell'insegnamento della filosofia che si pone come guida nella ricerca delle risposte alle tante tantissime domande di senso incoraggiando sempre ad esprimere il proprio punto di vista critico personale ma competente sui vari problemi difatti attraverso il dialogo socraticamente fra interlocutori che si rispettano reciprocamente seguendo le regole di una conversazione corretta che si costruiscono significati condivisi che si acquisiscono punti di vista nuovi che si negozia e si dà un senso positivo alle differenze dialogo però attenzione su ciò che si conosce non un dialogo superficiale sul sentito dire conoscere conoscere e sapere esercitare i propri diritti di cittadino non significa esclusivamente recarsi a votare ma significa interessarsi ai problemi quotidiani del contesto in cui si vive iniziando dal prendersi cura di se stessi degli altri dell'ambiente iniziando dal cooperare dall'essere solidali conoscere e sapere esercitare i propri diritti di cittadino inizia dall'essere informati ed essere fonte di informazione sulle questioni sociali e anche sulle questioni politiche allora e concludo occorre cercare insieme dialogicamente dei valori condivisi valori che siano condivisi proprio al fine del raggiungimento di obiettivi comuni credo che soltanto questo potrà generare l'impegno verso atteggiamenti cooperativi e collaborativi per un'umanità migliore per un'umanità di obiettivi di obiettivi